un altro volantino mania finalmente l'ha commessa da me il volantino di tigota del mese di ottobre ve lo faccio vedere così tutto da due pagine di prodotti a 50 per cento e mi sembra molto molto valida mi sembra molto valida 50 per cento e tanto risparmio un'altra pagina solo due pagine di 40 per cento saponi spazzoletti colluttori siamo molto molto interessanti 30 per cento tutti comunque prodotti sia per la persona sia per la cura di casa quindi secondo me andate a dare un'occhietta per tigota faccio lo sponsor ormai per le povere ragazze mi rivolgono poi 27 ottobre lo spremiagrumi in no living a soli 4,99 una specie ma di meno di 15 euro con 15 euro di spesa 5 euro vi portate le spremiagrumi io non vedo l'ora mia ma ce l'ha ma non ce l'ha lo comprerò perché io adoro la spremiagrumi troppo buono poi avete altri sconti 30 20 20 su detensivi casa bucato su igiene e cuore persone su make up su make up ragazzuole ecco poi qui cosa abbiamo pantenne di show the chante claire ecco quello che voglio segnarvi io è questo qua chante claire verte io tutta la linea della segnalata se si vedrà mai io anche questo è buonissimo la segnalata la pulizia di caldo educato è fantastico poi altri prodotti per la casa per la pulizia della casa per la casa che per la persona se andate a vedere è più più casa per le casalinghe disperate come me poi qui idee profumatori per ambienti pannolini assorbenti tutto molto in offerta qui ci sono molte molte cose per cura della persona io dico un grande no che è questo qua il provenzale bio non l'ha comprato cioè no no io ho rotolini mi ha fatto anche reazione allergica quindi no no orrore poi ecco come ho fatto carina due pezzi di dentifricio a un euro e cinquanta tutto per la cura dei dei denti mi sembra molto molto carino e sono una malata perché ho una gran paura del dentista però la fobia del dentista prodotti per i capelli questo ce l'ho mi piace questi dove no pensavo fosse poi l'altro comunque non so se lo sapete è uscito non so se in Italia c'è lo scrabbio quello nuovo del real al caffè del viso io non so se è ancora uscito poi ho le pagine preferite da tutte quelle make up ovviamente la pensate quella per i capelli della elvive l'orale il viso del franco max fattore bella oggi pupa e di qua cosa abbiamo la mia dorata l'oreal maybelline debora e bella oggi e l'aila salvia sono le mie pagine preferite gente da fare l'ultima ultima i profumi sempre rifilati in fondo ciao amico e questo è il volantino di tigota del mese di ottobre per la volantinomania questa volta beauty spero che vi sia piaciuto mettete un like un commentino di supporto a questo canale iscrivetevi e lasciate azionate la campanellina per ricevere le notifiche di tutti i miei video se no come come riuscirete a gustarvi tutti i miei video comunque spero che se vi sia piaciuto io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao